Buongiorno, ci hanno chiamato in sera alcuni cittadini che in corso gelone era tutto al buio. Poi abbiamo saputo tramite l'onorevole Vinciullo che Piazza Pancla era al buio e allora ci chiediamo ma che cosa sta succedendo in questa città? Dalle sere cucancia a vecchia che non va male se trova. Una volta avevamo Nino Fichera che basta lo chiamavamo sempre acceso, invece qua sera Gnonna è sceso, Gnonna è spenta e siamo vicino alla Madonnina sperando che ci possa fare anche questa grazia. Signore, scusi, è vero questo fatto di sera? Sì, ieri sera questo giorno era tutto al buio, se non era per i negozi che erano aperti, che fa un po' di luce nella strada non si vedeva niente. Una persona che deve passare una strada all'altra non si vede niente e anche in Ortigia è tutto al buio, non lo so, cosa dobbiamo dire, è tutto al buio. Ma la preghiera è la Madonnina? Ma la preghiera è una cosa che ci siamo a fare, ci siamo a fare veramente. Poi non vogliamo via l'acqua Luciano Giusto che ci sono buche, buttose, ci sono topi, fette di fugnatura, di pesce, non si può camminare. In via l'acqua Luciano Giusto, se ci andiamo ora c'è un'acqua, c'è, già perché ci hanno buttato una cazzo domani che li ritori. Poi ci sono bete, cabinetta, lavandino, pote, tabelle scippate, se i pote non puoi buttare allo spazio. Lui non avete illuminazione? No, via l'acqua Luciano Giusto siamo a buio di tutto, di tutto, di tutto. Ma ultimamente è caduto anche un palo delle luci? E' attaccato ancora, c'è un palo delle luci che sono venute, hanno fatto il giro del palo, ce ne hanno messo due pezzi di pesce e se ne hanno aiuto. Ancora è calato. Posa vuoi dire al sindaco Italia? Ma non c'è di dire al signor sindaco se non ha una mano d'aiuto. Questo qua solo ci chiedo, e non ci chiedo altro. Se non può dare una mano d'aiuto. E ai cittadini? Poi non facciamo re, buttose, se sarà usa. Comunque, il signor sindaco non ha una mano d'aiuto. Non ci diciamo per... Grazie a tutti.